Per tutte le altre tecniche utilizzeremo Photoshop, quindi apriamo il nostro file con Photoshop, facciamo doppio clic sulla nostra foto all'interno di Bridge, ok, e l'abbiamo aperta in Photoshop. Allora, come prima tecnica vediamo la cosa più base, più semplice ed elementare possibile, è la prima tecnica che abbiamo utilizzato tutti quando apriamo Photoshop, cioè quella di togliere la saturazione, di desaturare una foto. Allora, ci spostiamo in basso qui sotto, clicchiamo, ok, e scegliamo la voce tonalità-saturazione. Come vedete si è creato un nuovo livello di regolazione, tonalità-saturazione, in cui possiamo variare la saturazione della fotografia, quindi aumentiamo la saturazione, oppure se la diminuiamo al massimo, voilà, abbiamo già convertito la nostra foto in bianco e nero, senza fare troppi sforzi. È una tecnica proprio base, base, terra-terra, che diciamo non dovete utilizzare. Ok, questa è la prima. Allora, andiamo a... Ah, una cosa molto importante. Usate sempre i livelli di regolazione, perché non applicano modifiche distruttive all'immagine. Ok, quindi adesso possiamo tornare indietro tutte le volte che vogliamo. Buttiamo questo livello, benissimo. Cosa invece che, se andiamo dal menu immagine, regolazioni, tonalità-saturazione, impostiamo la saturazione, impostiamo la saturazione, ok. Se vogliamo adesso tornare alla foto satura, come facciamo? Non lo possiamo fare, impossibile. Torniamo da immagine, regolazioni, tonalità-saturazione, e la foto non torna indietro. E siamo costretti ad utilizzare la storia. Quindi, tutte le modifiche da qui, dai livelli di regolazione. Ok? Benissimo. La seconda tecnica consiste nell'applicare una mappa sfumatura. Quindi selezioniamo mappa sfumatura. Selezioniamo il colore bianco e nero. Ok. E la nostra foto è stata convertita di nuovo, appunto, in bianco e nero. Possiamo andare a modificare i valori, come il nero. Vedete qui? Si applica più o meno la sfumatura. Il bianco. Stessa cosa. E possiamo variare anche i mezzi toni. Voilà. Questo... Scusate. Questa è una tecnica molto intuitiva, veloce, che, se usata con discrezione, può produrre dei risultati abbastanza soddisfacenti. Ecco qua. Ok. Passiamo all'altra tecnica. Quindi ricapitoliamo. Abbiamo utilizzato... Tonalità, saturazione. E abbiamo desaturato la foto al massimo. Però abbiamo visto che non era un cranchè. Possiamo eliminare il livello. Ok. Poi abbiamo usato la mappa sfumatura. Con la sfumatura in bianco e nero. Ok. E da qui, spostando il cursore nero e il cursore bianco, possiamo... È il cursore a mezzi toni. Possiamo già creare degli effetti carini. Sì. Ok. Cancelliamo questo. Adesso, da Photoshop CS3 in poi, quindi CS3 e CS4, è stato creato un nuovo livello di regolazione bianco e nero. Quindi, sempre qui sotto, crea nuovo livello di regolazione. Selezioniamo la voce bianco e nero. Ok. Questo livello di regolazione è molto simile a quello visto in Camera Raw. Quindi abbiamo i cursori rossi, gialli, verdi, ciano, blu e magenta. Non abbiamo il cursore viola e non abbiamo il cursore arancioni. Ci sono stati eliminati alcuni colori. Quindi, la stessa cosa. Possiamo modificare i cursori a nostro piacimento. Ok. Gialli. Non so, rossi. Stessa cosa qui, guardate le colonne. Ok. Blu per il cielo. Ok. E possiamo utilizzare anche qui la manina. La manina è come lo strumento TAT visto in Camera Raw, quindi se prendiamo la mano, ok, e ci posizioniamo su una parte di cielo che vogliamo scurire, basta cliccare con il mouse e spostarci verso destra o verso sinistra. Così. Guardate. Scariamo, oscuriamo. Quindi, non so, vogliamo un cielo un po' più scuro. Poi, vogliamo, clicchiamo sulle colonne, ci spostiamo verso destra e facciamo le colonne un pochettino più chiare. Vogliamo il prato più scuro, non c'è problema, clicchiamo sul prato, ci spostiamo verso sinistra e scuriamo il prato. Guardate il cursore verde, come cambia. In questo caso anche il giallo, scusate. Ok. Stessa cosa qui. Et voilà. Così. Come vi ho detto in precedenza, questa tecnica produce molto rumore, fa vedere la foto, fa vedere tutte le schifezze della fotografia. Ok. Quindi è comoda, è utile, è veloce, però delle volte tira fuori dei risultati, lasciamo perdere. Ok. Possiamo anche utilizzare, dal pannello qui, dei predefiniti, ci sono già, ok, ci sono già delle impostazioni predefinite, quindi non so, possiamo, filtro blu contrasto elevato, bam, voilà, è sparito il cielo, va bene. Però possiamo utilizzare anche questi valori, filtro rosso contrasto elevato, infrarossi. Infrarossi utilizzati in certe fotografie dà dei risultati molto carini. Quindi, nero massimo, bianco massimo, filtro giallo, filtro rosso, ci possiamo divertire a nostro piacimento. Ok. Passiamo avanti. Quindi eliminiamo il nostro livello bianco e nero. Ok. Dopo, diciamo, questi assaggini, quindi utilizzando il livello tonalità-saturazione e mettendo la saturazione a meno 100, la mappa di sfumatura, mettendo una sfumatura bianca e nero e andando a modificare i cursori. Abbiamo utilizzato anche il pannello bianco e nero, dove possiamo modificare i vari colori separati, possiamo utilizzare la manina a destra e a sinistra per schiarire o scurire un colore singolo, oppure possiamo applicare dei valori già predefiniti. Adesso entriamo un pochettino nel vivo della questione e andiamo ad utilizzare i canali. Ok. Ci spostiamo nella palette canali, qui, che si trova a fianco a livelli. Se non la visualizzate, andate sul menu finestra e selezionate la voce canali. Ok. In questo caso ingrandiamo anche un pochettino la miniatura. Così faccio vedere meglio. Ok. Benissimo. E utilizziamo i vari canali. Ad alcuni di voi può capitare che i canali non li vedete in bianco e nero, ma li vedete a colori. Nel senso, il canale rosso lo visualizzate con tonalità rossa. Il canale verde, tonalità verde. Il canale blu, tonalità blu. Se questo non accade, andate sulle preferenze di Photoshop. Da Mac si va sul menu Photoshop, preferenze. Altrimenti per gli utenti Windows da modifica in basso sta preferenze. Ok. Qui andiamo su Photoshop, preferenze generali. Interfaccia. E troviamo la voce mostra canali a colori. Se attiva questa voce, guardate in basso, ci fa vedere i nostri canali colorati. Ecco, se li avete così, disattivate questa voce e vedrete i canali in bianco e nero. Ora diamo ok. Benissimo. Allora, la tecnica che vi dicevo consiste nell'utilizzare i canali. Allora, questa è molto 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 semplice. Consiste nel cliccare sulla miniatura del canale. Mi raccomando, cliccate sempre sull'immagine. Non cliccate sull'occhio perché dopo vi si intreccia, non lo risolvete più. Oddio, ma che sta succedendo? Cliccate sull'immagine. Quindi. Clicchiamo sull'immagine del rosso. Mi fa vedere il canale attivo.